Il ministro del commercio, dell'industria e dell'energia della Corea del Sud ha annunciato pubblicamente martedì di voler inasprire le norme relative alla produzione di batterie agli ioni di litio nel paese, per evitare nuovi casi come quello che ha portato al ritiro del Samsung Galaxy Note 7. Tutti i produttori di batterie dovranno adattare la produzione a nuovi requisiti di sicurezza, più stringenti rispetto agli attuali, sottoporre tutti i dispositivi con batterie agli ioni di litio a numerosi test di sicurezza con annessi controlli esterni e fare ispezioni regolari in tutte le fasi dell'assemblaggio.